... Kit, andateci piano. Avete ospiti a bordo. Kit, brutte notizie. Garth si dirige verso di voi su un elicottero. Mettetevi in salvo. Attivaremo dai mail. Kit, sei già entrato nella via. Ok, guarda no Jessi! Dove sei se yessi pur? No died nicht soön. Maica, austto Quattano Mihung kennen leurrekan an einen Nivea? Maica, unter die Leverton chin tenen. Rain ist das aber das die Leverton nebenbei... Kui care hat sich gli schimp queben sie und stassen. Närk Спасибо Limit griepamente. Oh! Sì, sì, sì. No, no, no.